Il sibilo sinistro, la fune che si spezza e il boato che annuncia la tragedia. È caduta una cabina della funivia di Stresa, in cima al Mottarone. Non sappiamo esattamente dove, che casino, che casino, che casino. Era quasi l'ora di pranzo del 23 maggio di due anni fa, quando l'allarme lanciato telefonicamente dall'operatrice del 118 raccontava la tragedia del Mottarone. A pochi metri dalla cima la fune traente si è spezzata, lanciando a valle, a 100 km orari, la cabina con 15 persone all'interno. Il bilancio è da subito drammatico, 14 morti ed un unico sopravvissuto, il piccolo Eitan Biran. A salvarlo sarebbe stato l'abbraccio del padre Amit, morto con la moglie, l'altro figlio e i nonni. Una famiglia pavese andata distrutta. Il giorno dopo, il 24 maggio, si apre formalmente l'inchiesta e si concentra su due aspetti, il cavo tranciato e il mancato funzionamento del sistema frenante di sicurezza. Per il piccolo Eitan invece inizia il lungo e doloroso percorso di recupero, assistito dalla zia paterna Aya di Travacò. La battaglia per il suo affidamento e il rapimento in Israele del nonno materno Jumuel Peleg aggiungono soltanto dolore a questa triste storia. Di contro c'è la reazione della città di Pavia, che abbraccia idealmente il piccolo Eitan. Il 28 maggio 2021 viene dichiarato il lutto cittadino. I commercianti del borgo, quartiere dei Biran, abbassano le serrande dei negozi. Questi ragazzi finiti in modo così crudele, che erano appunto poi degli abitanti del borgo e di Pavia. Nascono numerose iniziative per sostenere Eitan, partite di calcio e diverse raccolte fondi. In prima linea anche la sua scuola, le Canossiane. Quando le abbiamo chiesto se era pronto, se aveva desiderio di andare nella scuola primaria, lui ha detto così, tanto così ho desiderio. Si vede un ammino coltivato dai genitori e che già era stato esposto a tante esperienze. Quello che ci auguriamo è che possa metterci tutta la forza, perché il suo nome significa forza. Quindi questo è l'augurio e cerchiamo di aiutarlo in tutti i modi. L'8 dicembre di un anno fa, Aya Biran ritirà il San Sirino alla memoria del fratello, il padre di Eitan. Il suo abbraccio, durante quella terribile caduta, ha salvato la vita del bambino. Grazie.